Viene inaugurato questa mattina in Piazza della Rinascita il villaggio di Babbo Natale. Assessore, è un'altra attrazione per questo Natale e soprattutto per i più piccoli. Oggi c'è il villaggio di Babbo Natale che sarà presente qui in Piazza Salotto per tre giorni. Invitiamo tutti i bambini a venire qui perché ci saranno tantissime attrazioni. C'è anche questa sinergia con le associazioni, con la Croce Rossa italiana, tante iniziative anche benefiche. Assolutamente sì perché lo voglio ricordare noi già dal 2019 quando abbiamo fatto la città dei bambini siamo riusciti a raccogliere circa 5.000 euro che sono stati donati al reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Quindi ogni evento che il comune fa è vero che pensa al benessere di tutti i bambini e comunque quello dei cittadini ma guardiamo sempre a chi in questo periodo ha problemi e purtroppo si trova in uno stato di sofferenza. Gli siamo vicini e per questo abbiamo coinvolto le associazioni proprio per dare un messaggio, un segnale importante a queste persone. Voglio ricordarlo con orgoglio, abbiamo illuminato quasi un terzo della città di Pescara con le luminari che già erano installate dalla fine novembre. Credo che soltanto dal 2019 si è raggiunti un tale risultato. Abbiamo organizzato degli eventi che saranno qui a Piazza Salotto ma avremo eventi anche a Pescara Vecchio, San Silvestro nei quartieri di Pescara e concluderemo il 31, l'1 e il 5 con tre grandissimi concerti, due che si terranno nell'area di risulta e uno che si terrà al Teatro Circus e anche lì sarà un'occasione per fare beneficenza. Tre giorni di Natale speciale, tre giorni veramente fantastici con questi ragazzi diversamente abili, ragazzi speciali che dimostreranno a tutti i loro lavoretti che fanno anche durante l'arco dell'anno e poi ci sarà una giornata dove loro si accingeranno a fare dei lavori insieme a Babbo Natale che verrà qui apposta per loro. Quindi un Natale speciale per tutti i bambini.